Ciao a tutti ragazzi, io sono Ted e questo è il mio canale Ragazzi, prima di iniziare il video volevo dirvi due cose molto importanti La prima, scusatemi per col raffreddore Ho fatto il video e si sente abbastanza Spero che appreziate il mio sforzo E secondo, vi avviso ora che i peggiori della partita sono stati Pellegrini e il centrocampista difensivo, il CTC Ragazzi, godete il video e vi lascio l'ho Ciao a tutti ragazzi, io sono Ted ed eccoci ritornati su Rottulori Rottulori particolari perché abbiamo solamente di bala oro e dovremmo modificare la squadra Per chi non sapesse le regole lascio in descrizione il link del primo episodio dove spiego semplicemente come funzionano le regole e come andremo avanti Prendo il consiglio di LM Pro che ho scritto sotto al video E ci dice di spostare di bala al posto di Buonazzoli Quindi lo spostiamo subito in diretta E al posto di Buonazzoli No, al centrocampo prenditi Ucan Andiamo a cercare subito Ucan Allora ragazzi Ucan, Uccia non so come cazzo si pronuncia LM Pro, perdonami Andrà a posto di Gorì Perché è stato il peggioro in campo E questa è la nostra nuova squadra ragazzi Abbiamo utilizzato tutti e tre i bonus in un solo giocatore Eccolo qui Andiamo con la partita e il prossimo per sempre ragazzi Ottima squadra ragazzi Anche perché avevo i prestiti Inizia subito giù con la partita ragazzi veloce Cerchiamo di prenderci più punti possibili Vediamo com'è il nuovo innesto Dai che mette l'assist Niente Dai ragazzi su Madonna che pippone dai Dobbiamo vincere Dobbiamo portare a casa più punti possibili Bravissimo Di Bala Fai correre Pereira Sti passaggi alla cazzo li odio Eccolo Di Bala Di Bala Di Bala proprio a sinistra Una mozzarellina tattica Aveva fame Una santa lucia Davvero mi sto ciecando Non mi è un cazzo Un'altra volta cambio di luci Ma noi vogliamo vincere tutti i passi Di Bala serve ancora Eccolo qui Di Bala Di Bala Di Bala solo contro il portiere Di Bala rete Di Bala rete Di Bala attraverso il gol Di Bala attraverso il gol Un bonus Subito subito 26esimo Ed eccolo qui Bene Buonazzoni 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 Bravissimo Vai Bravissimo Vai a Di Bala Di Bala la porta Di Bala Il giocatore La finta Entra in aria Fuma anche lui Fatta cazzata Metti l'assist Mette la Uh che cosa ha parato Che cosa ha parato ragazzi Fine primo tempo ragazzi 1 a 0 Un gol di Di Bala Un bonus a casa Ucan Ucan Vedi Di Bala Di Bala Fammi sto gol eccezionale Porca miseria Vedi qua Fatti sto proprio Di gioco Eccolo Vedi di Bala Oh ma Porca puttana Prendi sta palla Vai via No bravissimo Portiere Spazzola dove vai Ma dove cazzo Bene bene C'è il quit A settantesimo 1 a 0 2 punti Più il gol di Di Bala 3 punti ragazzi Soltanto nella prima partita E' sempre E' sempre il gelino attacco E' sempre il delito Certo Ok ragazzi Si inizia subito Abbiamo accumulato 3 punti 3 bonus Soltanto nella prima partita Questa sarà L'ultima partita Di questo episodio Cerchiamo di portare A casa Altri bonus Eccolo qua Dai subito Per Di Bala Di Bala Lo vedi Benissimo Di Bala Di Bala Prova da lì Perché se no la perdi Dai che ancora 2 Bravissimo Di Bala Fai una pinta Esce il mio 1 a 0 Di Bala Al 100 minuti Come si è riuscito a vedere Che cos'è No L'altro guido No Vabbè Eccolo Hukan Bravissimo 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 Guarda di là Per Ivan 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 Eccolo qui No Ce l'ha messo al culo 1 a 1 Ragazzi Vi sono dovuto cuore Non bisogna demordere Perché scappi Pellegrini Pellegrino Di Bala Lo vede Vede Bera Vede Bera Vede Bera Ancora in mezzo Che se la perde Non la trova sotto i piedi Eccolo Ivan 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 Va via Con un numero E la connessione Il tuo coltello C'è Qui si prende solamente Il punto Di Dovrò vedere Quando monterò il video Chi sarà Peggiore Ve lo scrivo nei commenti Fatemi sapere Abbiamo 4 bonus A disposizione Vi lascerò nei commenti Ragazzi Chi sarà Chi è stato il peggiore Chi sono stati peggiori Di queste due partite Sarà voi decidere Con i nostri 4 bonus Che migliorare Abbiamo 3 bonus Perché Un rage quit E due volte di bala In due partite Mi sembra abbastanza buono Comunque In descrizione Vi lascio I peggiori giocatori E fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Ragazzi Lasciate un bel like Per il sostegno Commentate Iscrivetevi al canale Per non perdere altre serie E fatemi sapere Anche nei commenti Se volete Qualche episodio Di Assassin's Creed In the Gate E la qui è tra di tutto Ragazzi Bella